ciao a tutti ragazzi da agro lollo 204 e benessere ragazzi come avete visto siamo nel famoso video che vi ho promesso sulle trattrici agricole del futuro oggi siamo ufficialmente nel 2021 ma facciamo il passo indietro di un anno torniamo al 2020 giusto di pochi mesi fa ragazzi in cui è stato eletto trattore dell'anno un trattore veramente un trattore amico dell'ambiente di cui adesso andremo a parlare il monarca trattore è il mondo è stato il trattore di più perché è l'atture di più perché ha l'attornazione capaci perché di questo punto di quanto ha dato che può e perché è fondamentale cambia farmer's economiche permettendo di essere più profondo il monarca trattore e il tecnologia è preparato per i farmaci around the world to start using our tractor and help you make more money and take control of your farm. All of this at a global scale means that you can really trust the Monarch Tractor to do your mission critical applications today. Monarch Tractor being electric, being smart, having driver optional capabilities is that bridge that we can now cross and leave behind the conventional world and move forward in the beyond organic world, which is a really, really exciting time for agriculture. We have been working with farmers in their fields since day one of Monarch Tractor. And a question that we have gotten from day one is why should I replace my trustworthy tractor that I've had for 10, 20 years with a Monarch Tractor? And our answer is simple and straightforward. Our tractor does everything your existing tractor does, and it provides double the torque provides even more capabilities with respect to driver functions to get better operations done on your field. It allows you to start saving dollars and cents every hour you use a tractor. If you're a tractor driver, works like a tractor, you can use it like a tractor. You don't need to be out there every day. You're going to elevate your job from a tractor driver to a fleet manager, to somebody who's overseeing a fleet of tractors. Your existing implement that you've been using for 20 plus years now is smarter and more sustainable just by attaching it to our tractor. It's the combination of a conventional tractor, the utility of an ATV to pull tools and other needed. ebbene si ragazzi sto parlando del Monarch. Questo trattore che appunto è stato prodotto dall'azienda Monarch che ha che è ubicata negli stati uniti più precisamente in California e questo trattore è stato prodotto tra l'altro in una zona dove viene fatta molta viticoltura molta coltivazione di frutta come agrumi nocciole e altri tipi di frutta e le più famose però sono le prugne le famose prugne californiane e loro questi tecnici che appunto sono Carlo Mondavi che è proprio quello che ha guidato il progetto, Praven Penmezza e Mark Schwager e loro dichiarano che già in america da da parte di piccole aziende agricole perché questo trattore ovviamente non è un trattore gigante di quelli articolati che vedete che tra l'altro consumano tanta energia e non sono per niente amici dell'ambiente e perché questo trattore ragazzi è adatto soprattutto a lavorazioni dove non viene richiesta tanta potenza e soprattutto anche viticoltura e frutticoltura e poi perché ho detto che rispetto ad altri trattori questo invece è amico dell'ambiente ebbene questo trattore è 100% elettrico ragazzi questo progetto è riuscito molto bene ragazzi trattore elettrico con una potenza di 55 kilowatt che espresso in cavalli vapore sono 70 circa e la batteria che alimenta questo potente motore ha circa 200 volt e in più questo trattore viene fornito all'azienda anche con giustamente la sua stazione di ricarica per appunto quando la batteria si scarica tu vai lì metti la presa dentro la cosa e poi e poi ti ricarica il trattore e tra l'altro il tempo di ricarica è compreso tra le 4 e le 5 ore e in più ragazzi l'autonomia è molto alta e infatti ragazzi ha un'autonomia molto molto lunga di 10 ore avrà un prezzo di partenza di 50 mila dollari in euro non lo so perché in europa non è ancora arrivato questo trattore ha un sistema intelligente di risparmio della batteria e oltre che della batteria anche delle sostanze chimiche che devono essere usate in agricoltura quindi fitofarmaci erbicidi e tutte queste cose appunto in automatico il trattore ti consente di impostare un sistema di risparmio intelligente che che evita gli sprechi ragazzi infatti questo trattore contiene anche una memoria di 240 gigabyte quindi li vengono memorizzati tutti i dati delle operazioni che devono essere compiute nel frutteto e poi ragazzi questo trattore può essere comandato sia con l'operatore seduto a bordo come avete visto nel diciamo in questa piccola clip che vi ho mostrato all'inizio ma può essere anche usato proprio come un vero e proprio robot ragazzi a distanza e infatti tramite una piccola una piccola applicazione che potrebbe essere installata sul cellulare il trattore può essere comandato quindi tu puoi scegliere la direzione azioni tutti i comandi quindi ragazzi una roba bellissima poi anche un'illuminazione completamente a led molto intelligente che fa una luce molto intensa e niente ragazzi questo trattore ragazzi è stato premiato come miglior trattore dell'anno 2020 in più ha ricevuto anche un premio award ed è stato anche introdotto sulla lista dei 20 migliori prodotti elettrici ragazzi e dunque oggi dopo aver parlato un po di questo trattore mi auguro tantissimo che nei prossimi quattro sei anni possa arrivare anche qui in italia in europa e in alcune aziende viticole sostituire i trattori che hanno motori a diesel e che consumano tanto ragazzi l'appuntamento di oggi è finito se il video vi è piaciuto vi esorto a lasciare like e iscrivervi al canale noi ragazzi ci rivediamo in un altro video per oggi però vi saluto ciao ragazzi